qui abbiamo sasa che sta lavando la macchina buongiorno buongiorno questo è gianni gianni stegando giorno tra poco si fuma il bombolone perché comunque tra poco e gianni tra poco ma se no cosa si fa questo è gennaro il pierno il pierno il pierno va bene cosa dire questo è mimmo è meglio chi sei davide davide quando io occupo che era fa paura questo è il negozio non il negozio delle riparazioni questo è il negozio del bordello del bordello oramai è diventato vabbè non fa niente figurati ma dove sta il video un attimo solo moda emma che provo quando chiudo gli occhi e tu ritorni qua pensami anche se sei di un'altra pensami in fondo dimmi che cos'è che c'è di male se ad occhi chiusi per il tuo equilibrio e mi incanto tu tornerai no 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 non rompere l'anima stai zitto non rompere l'anima non rompere l'anima ma vedete che cazzo l'eserano non rompere l'anima gianni sei sempre tu che lo fai io vedi che qui saranno da parte a cadere che ho iniziato tutti i sedi e tutte le cose a passare fuoco e sbattere il corpo ma chi c'è di no mamma mia non rompere insieme a te tu sapere che come pioggia a te vedremo sui tu foglie cercami anche se sei di un'altra cercami in fondo dimmi che cos'è che c'è di male se ad occhi chiusi per il tuo equilibrio e mi incanto tu tornerai come il figlio piangerai 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 so